Buongiovedì a tutte voi! Eccoci per parlare insieme di quello che accadrà nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore che vedremo da lunedì 15 a venerdì 19 marzo. Iniziamo! La nuova collezione con il chiacchieratissimo abito British di Gabriella sta andando veramente bene e Vittorio ne è estremamente soddisfatto. Finalmente al Paradiso si può stare un po' più tranquilli a dare pensieri al Conti e però Marta, sua moglie. La donna infatti prima lo telefona e gli comunica che sta per tornare a Milano poi però lo chiama ancora una volta e gli dice che ha cambiato idea e che rimarrà ancora per un po' a Parigi. La decisione di Marta rattrista tutti, specialmente Umberto che sperava di poter riappacificarsi con sua figlia. Con un telegramma Silvia fa sapere che non tornerà più a Milano e che rimarrà a Parigi per sempre. Per questo motivo la zia Ernesta decide che è arrivato il momento di tornare a Lecco e Stefania deve seguirla. La ragazza non prende per nulla bene questa notizia perché non vuole lasciare la sua nuova vita milanese fatta di lavoro e nuove amicizie. Così si trova una soluzione. Stefania andrà a vivere insieme ad Irene, Anna e Maria e potrà rimanere a Milano. Nasce una nuova coppia? Probabilmente sì. Come già preannunciato, Marcello e Ludovica sono sempre più attratti l'uno dall'altra. Dopo aver sconfitto il Mantovano, grazie all'aiuto di Dante Romagnoli, i due giovani decidono di non vedersi più. Ma quando sono lontani non fanno altro che pensarsi a vicenda. Sembra proprio che il nostro Marcello abbia dimenticato Roberta. Grossi problemi economici in arrivo per Cosimo e Gabriella. Il Bergamini investe tantissimo denaro in un affare con Umberto, che però sfortunatamente crolla. I nostri novelli sposi rischiano seriamente di fare bancarotta e i danni per loro sarebbero grossissimi. Chi si mette nei guai è pure Giuseppe. Proprio ora che la sua famiglia ha iniziato a credere in lui, succede che l'uomo entra a far parte di un giro assolutamente sbagliato, solo perché gli viene assicurato che se farà il suo lavoro, tra virgolette, guadagnerà un sacco di soldi. Questo è il passo falso che Giuseppe commette e la conseguenza che rischia è che Agnese, Salvatore e Rocco si allontanino nuovamente da lui, il che però potrebbe giovare ad Armando. Chi è davvero Gloria? Nelle prossime puntate lo scopriremo ancora meglio, perché Stefania si confiderà con lei e le racconterà il suo dolore più grande, la morte della madre. Le parole della ragazza colpiscono profondamente Gloria, che a quel punto decide di incontrare la zia Ernesta. E quando le due donne si vedono, scopriamo che in realtà si conoscono da tantissimo tempo. E così il segreto della nuova capocommessa e del magazzino rischia finalmente di venire a galla. Bene, e con le anticipazioni del Paradiso delle Signore ci fermiamo qui. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.